Venerdì mattina ad Agropoli l'Inps aprirà la propria sede nei nuovi locali di via De Gasperi 84. Sarà il comune ad accollarsi i costi di fitto del fabbricato per evitare di perdere il prestigioso ufficio che serve l'utenza di Agropoli che accorse il rischio di essere trasferito definitivamente. Pertanto le attività di front office presso i locali di via Riviera 1, sede attuale, termineranno domani e verranno sospese solo nella giornata di venerdì per consentire i trasferimenti dei collegamenti tecnici. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì in via De Gasperi 84, sempre ad Agropoli, nei nuovi locali vicino alla stazione messa a disposizione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola.